Beh sì, la stanchezza si è fatta sentire perché secondo me questa formula è un po' da rivedere perché ci sono poche partite consecutive e infatti si vede che i ritmi sono molto calati e ho visto il risultato anche oggi bassissimo. Noi siamo già ridotti all'osso e ci siamo ancora infortunati oggi però ce l'abbiamo fatta, ci bastava un punto. Niente, adesso abbiamo un po' di riposo, domani a semifinale è una cosa che veramente non pensavamo all'inizio però sicuramente con questa formula è veramente difficile giocare ogni giorno e non so, secondo me sarebbe un po' da rivedere però nonostante tutto ce l'abbiamo fatta in pochi e abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Sicuramente una bella esperienza comunque questa tre giorni lasciamo Chieti con la mano in bocca perché perdere così per un gol nell'ultimo minuto di gioco dà fastidio e lo sappiamo tutti. Ci lascia la mano in bocca soprattutto la prima prestazione in cui non abbiamo dimostrato il nostro vero potenziale, siamo in campo male e siamo un po' di orsi delle ultime due prestazioni purtroppo oggi contro un Trieste grandissimo che erano in giocata di che hanno fatto comunque la recente storia del nostro sport non è bastato questo peccato, proveremo a rifarci l'anno palosso che ci aspetterà un campionato molto duro come la Silver da Ana Silver niente, ci rivediamo l'anno prossimo grazie a tutti Grazie.